Sindaco, dopo la chiusura delle scuole relativamente all'aumento dei contagi qui a Colonnella, è arrivato nell'ultima ora un ulteriore provvedimento che riguarda i pubblici esercizi che dovranno chiudere alle 20. Nel dettaglio, che tipo di provvedimento riguarda? Allora, per le scuole, come lei ha già detto, riguarda la chiusura di una settimana, che poi si associa a due giorni di festa e quindi insomma una diecina di giorni di distanziamento per tutti, è stata presa semplicemente in virtù dei malati che oggi registriamo e delle persone sotto osservazione. Mi è sembrato un provvedimento minimo nella speranza che mandi un messaggio, un messaggio che deve essere quello della situazione non è poco, come posso dire, sottovalutabile per nulla, ecco, lasciatemi dire così, e quindi cerchiamo tutti assieme di fare quanto possibile perché effettivamente migliori. Dal punto di vista della chiusura, anche lì è stato semplicemente un segnale, non blocca quasi nulla. Abbiamo bloccato alle 20 praticamente solo i bar perché non vengono toccati i ristoranti e altro, perché anche lì dentro ci sono ovviamente i Green Pass, quindi c'è già una forma di protezione. Un messaggio che spero sia solo il segnale alla comunità di fare ancora più attenzione, se c'è ancora uno spazio, io credo che ce ne sia tanto per poter fare più attenzione. Dunque ci sarà anche la chiusura del parco commerciale, dei negozi dell'Iper? No, assolutamente. Abbiamo tra l'altro dialogato sia con il direttore che con la direttrice della parte, come posso dire, dei negozi dell'Iper di Colonnella. Tutto questo viene regolato dalle leggi comuni, semplicemente il ristorante può continuare, ma il bar banalmente voleva essere un incentivo ad essere più attenti all'assembramento. Laddove le regole impongono l'entrata con tutte le provvidenze necessarie, che sapete meglio di me, lì non abbiamo toccato nulla perché non voleva essere come io, non voglio assumere provvedimenti che possano toccare l'economia, i commerci, l'attività normale della vita di questa comunità. Quindi è semplicemente un segnale che spero sia recepito per quello che vuole essere, un segnale di necessità di fare ancora più attenzione perché il momento non è assolutamente rilassante. Tornando ai numeri, qual è la situazione alla giornata di oggi? E se c'è la possibilità di diversificare tra coloro che hanno aderito alla campagna vaccinale e quelli che non lo hanno fatto? Ma io non ho la possibilità di zoomare a livello di distinzione tra chi ha il Green Pass o non il Green Pass, ho la possibilità di chiudere alcune attività, ma come ripeto abbiamo dato un segnale in realtà. Oggi i malati sono nell'ordine del 60, fortunatamente tutte nelle loro abitazioni, nessuno in ospedale, fortunatamente nessuna morte. Questo sembra una cosa importante, ma su tutto questo non c'è una garanzia, c'è soltanto un segnale importante insieme a quello di una novantina di persone che sono confinate a casa nell'ottica di essere monitorati se sviluppano una malattia. A me pare che tra 90-95 persone che stanno monitorate, 60-58 che sono già malate, facciamo un 150 persone che comunque sviluppano un rischio per la comunità. Io credo che nessuno di noi, a partire da come mi sento io, da padre di famiglia, possiamo sottovalutare questo tipo di situazione, abbiamo il dovere di rispettare certe regole ancora di più e quelle regole le sappiamo tutti, distanziamento, mascherina e poi ancora vaccinazione, vaccinazione, vaccinazione. Che reazioni ha avuto da parte dei suoi colleghi o comunque degli enti superiori?